sarà sicuramente una sfida difficile come come sempre stato contro il carpi soprattutto perché la semifinale tutte e due le squadre sicuramente vorranno fare bene niente noi arriviamo a questa partita abbastanza in forma abbiamo ancora l'incoglio da ricco belli che non sappiamo se al 100 per cento ma abbiamo provato tanto senza di lui ormai mezza stagione che si chiama mezza di lui speriamo che si possa dare una mano ma stiamo abbastanza bene il carpi è una squadra ostica che è grata seconda nel girone e dietro soltanto a imola che è una gran bella squadra ha dimostrato in coppa italia che può fare molto bene e dobbiamo stare attenti assolutamente a non sottovalutare la partita ci prepariamo questa settimana meglio per questa semifinale scudetto sarà la mia prima volta sono molto emozionato giocheremo a conversano in un gran palazzetto che ha fatto la storia di questo sport daremo il massimo e proveremo in tutti i modi a dar fastidio al fasano siamo cresciuti siamo cresciuti soprattutto come gruppo visto che eravamo un gruppo ancora non completamente compatto come adesso adesso ci siamo stretti l'uno all'altro e si è dimostrato al gironcino ed è cambiato questo ora noi se non siamo favoriti per questa semifinale questo poco mi assicuro ma daremo il massimo per dar fastidio punti di forza sono sicuramente il pivot pasquale maione il portiere vito fobia poi c'è anche lo straniero se giocherà o non giocherà ricco belli ma sono tutti punti di forza e anche flavio messina in difesa tutti quanti noi cerchiamo di giocare in velocità con il nostro gioco e daremo più fastidio possibile grazie a tutti